Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video Oggi siamo in una modalità che non ho mai portato sul canale E' nuova su questo server e si chiama Smash Heroes Ovvero è un combattimento tra eroi, ad esempio c'è Bulk, conosciutissimo General Clack, Cake Monster, Botman, Puderman e altri disperi eroi Come avete sentito, non sono mai da solo perché si deve far sempre scoprire Siamo con... Chi c'è secondo te? Chi c'è? Simone! Possiamo iniziare? Infatti Simone e Bulk, Bulk sarebbe, per chi non l'avesse capito Eh, attenzione perché, però non mi ricordo tanto come si gioca Go! Ah! Abbiamo un tot di vite, dobbiamo cercarli o di uccidere o di buttarli giù E ci sono gli sciopponi, come questo qua blu, o quelli scarsi, come noi due Ma facciamo male lo stesso, ahia A quell'altro, dove sta quell'altro eh? Dov'è finito? Ah! You killed, che ho ucciso? Olè! E' imbazzito i due Ma c'è un maiale Ne ho uccisi due? Ne ho uccisi due, non so come E ogni personaggio ha la sua abilità speciale, come non speciale Perché Batman c'ha questa, che si può arrabbiare Mamma! Col filo, paz! Cosa ti ho detto prima? No, ti ho detto che qua stiamo registrando E tu vieni! Sono morto Mi vada Cristiana! Ma vai via! Boom! Questa secondo me sta laggando Però io lo ammazzo, no? E' l'abilità speciale di Batman Madonna! Vai via! E' l'abilità speciale di Batman E'... Oh! Di slide it! Mamma ma la smetti? Invece di no? Vai via! Vai via! Vai via! Cosa ti devo dire ancora? Mamma! Mamma vai via! Mamma! Oh 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 Scusate ma tu E ti canta, canta di The Chorus pure te Oh 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 Ma chi è questa qua? Basta! Ma, mamma Mettiamo E l'abilità speciale di Batman E' quella di salire sulla Bat-macchina Bat-mobile, scemo Mantola, sai qual è? Ah, Bat-mobile scusa Comunque stiamo vincendo eh Sono morto Eh, sei una pip Ma dai, c'era qualcuno che... Eccola, ecco Bat-mobile, assorto Quale, c'era la mamma che mi rompeva Sono morto Tanto hai vinto Tu c'hai un'altra vita ancora Eh, anche lui No, lui c'è una monta di poca Se lo colpisci forse muore Porca mignotta Quanta vita c'ha? Abbiamo vinto! Ho fatto Una Cinque kill Io una Sei molto utile eh Sono morto, mi dispiace Vai, un Pixel Painters Non ci ho mai giocato Left click select Left click paint Sì 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 La 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 Non so cosa si debba fare Tocca me Alphabet Ah, ma tutti dobbiamo farlo Ah, dobbiamo fare l'alfabeto Ti faccio A Mettete a copiarmi Ho sbagliato Figo Vabbè, ora basta Facciamo una cosata Come scelgo il colore? Ah, da qua Tac, verde Tac Ho sbagliato! Ancora tutto sto tempo? Io ho finito Prendiamo il rosso Facciamoci voi Quadratini Ma è bello comunque A me piace Ho finito! Per quanto sarà bello? Io da mo' che ho finito Sto facendo una cosa aggiuntiva Lo rovinerà però Come faccio a disegnare un alfabeto? Finito! È un po' una merda Però ho finito Dai! Anch'io Click your favorite drawing Eh, dove sta? Bellissimo! Bello! Sto qua, io voto questo ABC Bello Vince lui sicuramente È una merda Bellissimo! Quello lì è di Simone No, no Ah, ecco il mio Vai, io te lo voto Lo sto votando Dai che vinci Siamo a tre Quattro Tu voterai il mio, ovviamente Eccolo Oddio! Oddio, vai, vota Ma che cazzo è? È una merda Ma dai! Tra tutte le merda È il tuo il più bello Ma dai, io sono andato Tra quelli più belli Ci sta quello della lavagna Infatti ho messo quello Eccolo Vota il mio, vota il mio Dai che siamo i due Oh, quattro Eh, si è andato a cagare Non è tra te È il tuo Io voto lui Ma dai, io non sono andato Nelle finale È bellissimo Ha vinto lui, raga Eh, però sono arrivato Terzo Oh, raga Sono arrivato terzo È buono Vabbè ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Se è così commentate Condividete il video Iscrivetevi al canale Se volete un prossimo episodio Subito con Simone Lasciate like E commentate Con quali minigames fare Salve a tutti E Simone è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti